ciao e benvenuto sul mio canale io sono michael e su questo canale condivido le mie esperienze zaino in spalla in italia all'estero e soprattutto nella mia terra il salento oggi ti porto in uno dei punti più famosi della costa adriatica salentina sto parlando dell'insenatura del ciolo e se non la conosci oggi te lo farò vedere per la prima volta andiamo ho deciso che non mi porterò subito al ciolo ma prima faremo un piccolo trekking di un di chilometri benvenuti al sentiero delle cipolliane lì c'è la marina di novaglie ok questo dovrebbe essere l'ingresso sentiero delle cipolliane è un'antica strada che percorrevano i pescatori e commercianti insieme ai loro animali da soma per trasportare la merce in paese dalla costa il percorso inizia dalla marina di novaglie dove vi ho fatto vedere e finisce al ponte ciolo dove siamo diretti quindi adesso ci facciamo una bella camminata ciao 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 è da un po' che non ci vengo forse mi son perso non riesco più a trovare il sentiero di qua no di qua neanche forse di qua sto andando un po alla cieca proverò ad arrampicarmi qui sopra ok dovremmo esserci no anche qui è un piccolo cieco allora ho fatto una piccola deviazione per poter fare delle foto e sono uscito dal percorso devo andare lì devo attraversare quel muretto secco rieccomi in pista ok siamo qua quasi alla fine del percorso e quello è il ciolo pensate che da lì c'è gente che si tuffa nonostante l'acqua non sia molto alta il ponte alto 40 metri ed è stato costruito negli anni sessanta qui a sinistra c'è un altro sentiero e adesso scendiamo giù fare c'è un altro sentiero sono esattamente sotto al ponte dove c'è una piccola spiaggetta di solito d'estate è sempre strapiena quindi vi consiglio di venire la mattina prestissimo anche perché non troverete parcheggio altrimenti bene adesso io farò un paio di chilometri per recuperare la macchina questo era il ciolo il video termina qui lasciate un like se vi è stato utile se avete delle domande scrivetene nei commenti vi lascio anche il link in descrizione di google maps per raggiungere il ciolo ci sono un sacco di scale e vi invito ad iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video ciao